Allora, per sicurezza informatica intendiamo tutte quelle soluzioni che possiamo utilizzare per rendere sicuro i nostri dati, i nostri dati che abbiamo sui nostri sistemi, i nostri computer, ma anche i nostri hard disk, i nostri spazi all'interno della rete dove vengono storicizzati, dove vengono messe le nostre informazioni. Simpaticamente abbiamo fatto il paragone del nostro sistema informatico con una banca, come la banca deve difendersi dall'accesso di persone strane al suo interno che possono derubare, così anche noi dobbiamo proteggere i nostri sistemi informatici, i nostri dati, le nostre informazioni, i nostri contatti da chi magari ne vuole fare uso. Per fare questa protezione, come sempre nel paragone per rendere la cosa più semplice da capire, della banca vengono utilizzati vari sistemi dal chiudere effettivamente le porte di accesso, quindi chiudere le varie possibili ingressi e lasciare solo una aperta, il controllo della unica porta aperta che rimane, quindi un controllo che fa capire chi entra e come sia una persona da noi desiderata e poi anche un vigilante attivo che sa riconoscere evidentemente le persone non autorizzate. Così anche il nostro sistema informatico ha bisogno di questi vari sistemi, varie soluzioni multilivello appunto che riescono a garantirci una maggiore sicurezza. Quindi, rilogando velocemente, la prima cosa naturalmente che anche per una banca ci deve essere la formazione del personale, ovvero se chi è che sta per dire allo sportello e vede accedere all'ingresso della banca una persona sicuramente con la pistola a mano non la fa certo entrare o è il primo a dare l'allarme, quindi il saper riconoscere le possibili pericoli. Il controllo degli accessi appunto, quindi dei sistemi che possono chiudere o aprire le porte di quello che ci interessa. Controllo delle operazioni effettuate, controllo attivo da personale specializzato. E così anche sul nostro computer, sui nostri sistemi diciamo, abbiamo bisogno di una formazione di noi, degli utenti, di chi sta effettivamente a lavorare al computer. Controllo degli accessi in base ai dati che arrivano nel computer, controllo del trasferimento dei dati e controllo attivo con un antivirus. Possiamo ripilogare e vedere quali sono innanzitutto le possibili porte d'ingresso per il nostro sistema. Fisicamente i nostri computer hanno due porte d'accesso, diciamo, si possono riassumere. I porti di trasferimento dati USB, quindi tutte quelle periferiche che colleghiamo noi fisicamente alla macchina e che ci aiutano, ci permettono di trasferire documenti, trasferire immagini, trasferire informazioni. Può capitare che un cliente, un amico, una persona arrivi nel nostro studio, nel nostro ufficio, nella nostra azienda e ci dica, guarda, devo stampare questo documento, me lo puoi stampare, guarda, ti ho portato la relazione delle mesi, ti ho portato questa documentazione, tieni, te la passo, ci dà la sua chiavina USB, la sua pendriver USB, noi la colleghiamo al nostro sistema informatico, al nostro computer e oltre a trasferire magari il dato da noi interessato o andare a fare la stampa voluta senza che ce ne accorgiamo, se non abbiamo le dovute precauzioni, al suo interno passano nel nostro computer anche degli altri programmi, anche dei virus, anche magari appunto dei programmi lì latenti su questa chiavina, magari derivanti dal sistema infetto di questa persona, ci vengono trasferiti alla nostra macchina. Oppure il metodo, diciamo, sempre più diffuso e che maggiormente miete danni, ovvero tramite accesso di dati con la scheda di rete, wire, wifi, cioè sia cavo o wifi, ovvero la scheda di rete è quella che cosa ci permette di fare? Ci permette di collegarci quindi al nostro router, alla nostra DSL, di navigare in internet, ci permettere di ricevere email, ci permette di trasferimento dati da un pc all'altro e ci permette anche di essere vulnerabili dalla rete, ovvero anche senza che noi navighiamo su internet, se non abbiamo un controllore, che ora andremo a vedere nello specifico, comunque un qualcosa che regola l'ingresso o l'uscita dei dati dalla nostra rete locale, dal nostro computer, alla rete internet, è possibile che venga vulnerata. Quindi a questo punto quello che a noi serve sicuramente è uno scudo, una protezione, un qualcosa che vada a filtrare e a veicolare questi dati, queste porte d'ingresso. Qui possiamo riassumere un pochino, diciamo, quelle cose che dicevamo iniziali, cercando di entrare nello specifico punto per punto, ovvero nel punto 1 vediamo appunto il sapere riconoscere il nemico, questa è una cosa importantissima, poiché la formazione di personale, utenti che stanno lavorando a pc, è come vedete il primo step, per una buona sicurezza. Poi serve naturalmente un vigilante attivo, quindi un antivirus su computer aggiornato, perché se non viene aggiornato è inefficace, è attivo per il controllo dei file scambiati. Il sistema operativo Windows deve essere aggiornato con le dovute patch, quindi con i dovuti aggiornamenti che vengono forniti dalla Microsoft, per in modo da chiudere le eventuali brecce del sistema. Ci deve essere un controllo di accesso, una web protect, ovvero un software che controlla la navigazione internet e collegamenti dal singolo pc verso siti esterni. Poi abbiamo un'ulteriore protezione che si chiama firewall, ovvero per la rete dei dati dove ci sono appunto più di un computer, quelle situazioni dove ci sono più di un computer, cioè si ha una rete di computer appunto, rete dati, e qui serve un filtro degli ingressi della rete esterna, one, quindi un cancello che fa entrare solo chi vogliamo noi e fa uscire solo dati che danno i desiderati. E poi naturalmente ha ancora protezione di tutto, perché la sicurezza al 100% ovviamente non la può dare nessuno, bisogna avere una ridondanza dei dati, quindi un backup, una sicurezza di avere un punto di ritorno sicuro, un salvataggio esterno al pc su periferiche e spazio cloud, dei dati importanti. Andiamo ad analizzare a questo punto il primo punto, sapere riconoscere il nemico, formazione del personale. Vediamo, ecco, questo è un primo passo, naturalmente quella formazione deve essere una cosa continua, non si può limitare a questa piccola ora di corso, ecco, è bene uno che poi si informi, legga, oppure anche semplicemente ci possa chiamare e chiedere informazioni in merito. E' sempre meglio, nel dubbio, effettuare una telefonata, chiedere un'informazione a una persona specializzata, che aprire il determinato allegato, aprire il determinato programma e rischiare, perché il rischio naturalmente è la perdita di tutti i dati. Iniziamo dalla prima regola, usare sempre la testa, ecco, ricordare sempre che la migliore difesa è la nostra intelligenza. Se ci troviamo di fronte a comportamenti strani o insoliti, teniamo sempre un comportamento vigile su tutto ciò che facciamo. Faccio un esempio, può succedere che in mezzo di caso scarichiamo un software, un programma da un sito internet, magari un sito anche sicuro, scarichiamo un programma che ci può servire per eseguire dei controlli, per trasformare dei file, insomma. E a prima apparenza lo andiamo a eseguire, doppio clic, ma a video non vediamo nulla. Può capitare, no? Dice, ma non è partito. Però subito iniziamo magari a vedere il nostro hard disk, il nostro computer, che inizia a lampeggiare, inizia a lavorare. Vediamo che quando ci muoviamo col mouse o quando andiamo a fare altre cose, inizia ad essere molto appesantito, inizia quasi a rallentare. Ecco, evidentemente in quel momento è successo qualcosa, è una fase diciamo insolita, non è una cosa normale nel lavorare quotidianamente. Evidentemente, visivamente non riusciamo a vedere nulla, non ci sono messaggi, però a livello di programma si sta eseguendo dei software. Ecco, in questo caso conviene sicuramente cercare di bloccare questa eseguzione, quindi con il control, alt, cancel, i comandi della tastiera che fanno aprire i task manager, dove vediamo le applicazioni attive, lo possiamo andare a interrompere, oppure nel dubbio e proprio se vediamo che la cosa si sta aggravando, andiamo a spendere il sistema in modo da fermare questa esecuzione, quindi spegniamo il computer e chiamiamo l'assistenza. Questo è uno dei possibili scenari dove vediamo appunto dei comportamenti strani o insoliti. Continuiamo a leggere, dice, Molto spesso le trappole che altri preparano per ignari o disattenti utenti sono facili da rivelare, altre volte sono invece delle regole fatte a regola d'arte. Su un livello di attenzione sempre elevato ci può permettere di evitare il peggio. Infatti solitamente gli attacchi possono provenire da utenti non italiani che sfruttano software per la traduzione della lingua, fare attenzione alla grammatica corretta della frase, ovvero soprattutto di attacchi via email. Questi attacchi non vengono effettuati da persone che stanno fisicamente davanti al computer e loro manualmente inviano le mail, ma ci sono dei programmi apposta che andando a infettare dei server, dei computer, da lì partano e si auto-inviano a delle liste di email. Quindi massivamente vanno a replicarsi su tanti ignari utenti. Ecco, cosa succede? Per adattare la lingua alle persone dove vengono inviate ci sono dei software che fanno da traduzione, li possiamo a volte usare anche noi, su internet li troviamo che vanno a tradurre i nostri messaggi. Questi software si stanno sempre di più migliorando, però ecco, nella traduzione del messaggio può capitare che la grammatica non è corretta. Quindi evidentemente già arrivare che ci arriva un email con una grammatica non corretta può essere segno di sospetto, quindi bisogna fare ancora più attenzione. Poi, una seconda regola è tenere sempre il proprio sistema aggiornato. Gli aggiornamenti dei sistemi operativi permettono di proteggersi da molte vulnerabilità che ogni giorno vengono scoperte, pubblicate e sfruttate per la breccia dei computer degli utenti. Non aggiornare il proprio sistema rende vano anche l'uso di software antivirosi, in quanto se una falla è aperta diventa inutile una protezione tardiva. Molto meglio chiuderla e prevenire. Facciamo un piccolo paragone, facciamo l'esempio che il sistema operativo, il nuovo sistema operativo Windows 10, per dire, o i vecchi sistemi operativi Windows 7 o Windows XP, alla sua uscita, appena viene installato dagli utenti, la Microsoft rileva, vede che ci sono delle possibili falle, dei possibili buchi dove possono passare i virus. E quindi come se fosse una casa automobilistica, quando viene rilasciato un nuovo modello di auto, se si vede che un modello di auto ha un difetto, ha un piccolo difetto, la prima cosa che fa è correggere il difetto, mandare una lettera a tutti quelli che l'hanno acquistata, e dire, guardate, andate nella vostra auto-officina e fatele riparare quel difetto, in modo che non sia gravi. Ecco, e questo è quello che fa la Microsoft, ovvero, una volta lanciato il proprio software di sistema operativo, o quello che voglia che sia, quando si rende conto delle possibili buchi, dei difetti, lancia questi aggiornamenti gratuiti, naturalmente, che vanno a correggere questi guasti, queste falle. Ecco, per questo è importante eseguire l'aggiornamento. Naturalmente, questi aggiornamenti a volte sono magari fastidiosi, perché vengono effettuati nel momento proprio dello spinnimento del computer, o quando uno ha fretta. Quello però, se ci volete chiamare, insieme possiamo anche pianificare, vedere come pianificare, o farvi vedere come si può pianificare, appunto, gli aggiornamenti a un orario, a un tempo da noi desiderato. Terzo punto è proteggere il proprio sistema, con antivirus e anti-malware, sempre attivi. Non è più pensabile di utilizzare un qualsiasi dispositivo, che si colleghi a internet, senza il concomitante supporto di un software antivirus. L'antivirus va sempre tenuto, e va sempre aggiornato, prima di iniziare la navigazione, o il download delle mail. Ecco, quello che è appunto, è anche importante capire che l'antivirus è un software che al giorno d'oggi non può mancare, perché è colui che ci aiuta a fare quello che fa il vigilante nella banca, cioè a riconoscere una possibile infezione, un possibile utente non è riconosciuto, non è voluto nel nostro sistema. Noi non abbiamo e le capacità di riconoscerlo, mentre questi programmi sono proprio sviluppati e vengono aggiornati, quindi gli vengono date le informazioni che gli permettono di riconoscere questi virus. Non scaricare da sconosciuti. Se qualcuno mi invita a lanciare un file senza un motivo sul vostro computer, e voi lo fate, quello non è più il vostro computer. L'esecuzione dei file è sempre una procedura da tenere sott'occhio, specialmente se non siete stati voi a scaricare questo detto file, ovvero andiamo a navigare su un sito, un sito magari che non conosciamo, un sito che ci hanno detto che è sicuro. Mentre andiamo su questo sito, può capitare che si aprono altre finestre. Queste finestre non le abbiamo richieste, quindi in automatico ci vengono presentate. Magari in questi messaggi, scritti in queste finestre, c'è scritto, attenzione, il tuo sistema è infetto, clicca qui per scaricare l'antivirso gratuito, o clicca qui per pulire il tuo computer. La persona ignara, che magari si fida, ecco, un pochino troppo, dice di sì, e è quell'atto che fa entrare veramente il programma infetto, o il virus in questione. Perché è proprio quel messaggio ingannevole che ti propone gratuitamente e comunque così facilmente di scaricare un software che tu neppure cercavi, perché magari stavi navigando per altre cose, e è in quel momento lì che ti entra un software non autorizzato e non sai neppure da dove lo stai scaricando realmente sulla tua macchina. Andiamo avanti, abbiamo altre quattro regole, poi finiscano, che non vogliamo essere troppo a leggere qui. Allora, 5. Filtrare la propria posta elettronica con software anti-spam. Questo è un problema che hanno molte persone e a giorno d'oggi ci sono varie soluzioni, anche noi come Gianni Mila abbiamo diverse soluzioni per proteggere a più livelli anche la posta elettronica. Naturalmente, il primo consiglio che di solito diamo è sentire il proprio fornitore di posta elettronica, il quale anche lui a monte di scaricarla sul computer di solito ha un anti-spam o un antivirus. Ma se questo non bastasse, possiamo anche noi inserirci sempre prima del vostro sistema, prima del vostro computer, per bloccare o limitare lo spam. Lo spam, intendiamo, tutte quelle mail massive che vengono inviate più delle volte per pubblicità o per, appunto, far scaricare software malevolo. La maggior parte, infatti, dei pericoli è veicolata tramite messaggi e mail. Attivare un software anti-spam localmente o in cloud, quindi in uno spazio internet, che previene ai messaggi potenzialmente pericolosi di eseguire il proprio codice maligno. Non cliccare sulle allegate o link presenti sulle mail, inaspettate o sospette. Fare attenzione agli indirizzi e mail di provenienza, leggendo per l'intero il loro indirizzo. Molto spesso, infatti, delle mail ingannevoli hanno come prima parte dell'indirizzo un nome familiare, no? Faccio qui un esempio, Telecom Italia, Tim, SDA, insomma, dei nomi ingannevoli. Però se si va a fare attenzione a il dopo, la chiocciolina, questi non possono essere veritieri, non possono essere quelli veramente della Telecom Italia, sennò sarebbe veramente un'email loro. E quindi, ecco, fare sempre attenzione alla parte a destra della chiocciolina, che ci fa, diciamo, ci può dare un pannello d'allarme sulla correttezza oppure no del mittente. E un'altra cosa che vi volevo dire, appunto, che soprattutto tramite email ci sono più, vengono fatti gli attacchi di phishing, ovvero quelle mail che si spacciano per veri siti tipo per la carta di credito, per conto corrente postali o via dicendo, e ti dicano magari, guarda, oggi abbiamo un blocco del sistema, clicca qui, quindi mettono dei loghi, dei disegni, fasulli, ti fanno finta di far capire di essere veramente sul sito della banca in questione e ti chiedono le credenziali. Infatti, il loro intento qual è? Quello di storcere, di prendere nome utente e password dei vari conti correnti, delle varie caselle postali o di vari servizi che uno può avere su internet. La persona in malcapitato pensa di essere su un sito sicuro, pensa che dal link che è arrivato via email, stiamo parlando, lui ha cliccato sull'email, si è aperta questa pagina, lui pensava di navigare sul sito della carta visa, mettiamo, invece se si va a leggere bene gli indirizzi, se si va a vedere bene nel dettaglio, magari non è il sito che veramente noi staviamo cercando e ci vengono derubati i nostri dati. Quindi è importante leggere sempre tutto quello che viene visualizzato a schermo. L'utilizzatore che non legge messaggi visualizzati a schermo è destinato prima o poi a fare errori, occorre sempre leggere tutto quanto e se qualcosa non è chiaro non accettare mai le proposte visualizzate, soprattutto le finestre pop-up, le finestre piccoline che si aprono durante la navigazione in internet in automatico. Un'altra cosa da fare attenzione è la navigazione col suffisso HTTPS, notare appunto la ultima S. infatti questo protocollo che troviamo su un indirizzo internet in alto dove c'è l'indirizzo esempio www.gianimila.it prima abbiamo HTTP ma perché non dobbiamo scambiare informazioni riservate non c'è uno scambio di informazioni appunto importanti per gli utenti ma è solo un sito dove si va a vedere a leggere delle informazioni mentre se si va sul sito della vostra banca del vostro conto online sicuramente fate caso che la parte iniziale sarà HTTPS questo vuol dire che vengono utilizzati dei protocolli di sicurezza elevati e tutti quei dati che vengono inseriti vengono criptati in modo da non essere intercettati da delle persone malevole da degli hacker quindi ecco questo prima di inserire i nostri dati della carta di credito se vogliamo effettuare un acquisto online prima di andare a inserire i nostri dati del nostro conto Paypal eccetera fare attenzione che ci sia questo protocollo di sicurezza HTTPS infine un consiglio che chiediamo un pochino a tutti è di non lasciare male password scritte su un foglietto vicino alla tastiera questo comportamento equivale a non avere nessuna password le password vanno cambiate spesso devono essere alfanumeriche quindi formate sia da lettere che da numeri devono essere con dei caratteri maiuscoli e minuscoli e il nostro consiglio è a volte utilizzare anche dei caratteri speciali qui c'è un esempio di una password e minima deve essere di 8 caratteri facciamo un esempio in questo caso è piccola più maiuscola prova password 2 dollari 1,2,3 ecco questa è una password forse è anche un pochino esagerata però sicuramente efficace il vigilante attivo l'antivirus sicuramente tutti voi avete un antivirus nel vostro computer noi come Gianni Mila forniamo principalmente due prodotti antivirus l'Azit node 32 un antivirus che oltre ad essere veloce quindi non rallentare eccessivamente il proprio computer ha anche al suo interno un anti-phishing oppure quel discorso che va a controllare le mail le mail che vi stanno arrivando e a sua volta cerca di bloccare riconoscere e bloccare quelle mail sospette l'altro antivirus è l'antivirus BRM agent un programma sempre attivo sulla vostra computer questo viene installato localmente e può garantire la protezione a tre livelli praticamente solo per i file di esecuzione per tutti i file a rischio oppure appunto solo i file a rischio oppure tutti i file naturalmente per entrambi gli antivirus si possono mettere in pausa durante l'installazione o un aggiornamento di un programma si può eseguire la scansione quindi il controllo di una periferica che vogliamo mettiamo caso facendo l'esempio di prima ci arriva il nostro amico o il nostro cliente che deve stampare un dato dalla sua pennina usb naturalmente il primo consiglio che facciamo è una volta inserito la cavina nel computer prima di andare a eseguire o a copiare dei file gli facciamo fare un controllo del nostro antivirus e poi abbiamo qua quello che si diceva prima tenere sempre aggiornato il sistema operativo I love you patch ovvero è importante fare questo upgrade di windows in questo caso l'esempio di windows 10 o comunque chi ha i vari sistema operativo è importante sempre mantenere aggiornato un continuo aggiornamento il sistema operativo controllo accessi controllo accessi che nell'esempio della banca era fatto dalla porta a screen che quando uno entra c'è il controllo del metadetector anche noi abbiamo dei software per controllo accessi dei nostri computer questo è fatto dalla web protec che praticamente viene installato sui singoli computer e questo cosa fa la possibilità di bloccare l'accesso agli utenti e sit web dannosi contenenti malware proxy power hardware boot spam così come siti progettati per eseguire attacchi e phishing quindi noi magari non conosciamo tutti quei siti potenzialmente pericolosi ma questo software che è collegato direttamente online ha una lista di database e in continuo aggiornamento dove vengono identificati quei siti malevoli che possono portare a degli attacchi possono fraudare fregare i nostri dati a quel punto noi quando andiamo a navigare su internet ci veniamo bloccati appunto da questa protezione funziona anche da web filter e da monitoraggio della banda o cosa vuol dire che praticamente dove c'è le esigenze naturalmente e abbiamo installato questo software possiamo dire quel computer o quei computer possono navigare solo su alcuni siti o possono navigare su tutto tranne questi siti un esempio mettiamo caso se abbiamo delle aziende che non vogliono far navigare nei propri dipendenti su siti tipo facebook social quello che vogliamo noi andiamo a mettere in una black list quindi una lista nera tutti quei siti che non vogliamo che nessuno ci vada a navigare in automatico la persona che va a lavorare su internet su quei siti non si rende conto per quale motivo ma gli viene scritto semplicemente proprio l'amministratore ha negato l'accesso a questa risorsa e non riesce ad andare su quel sito quindi tutti gli altri siti funzionano regolarmente uno può lavorare regolarmente può andare a vedere siti di google agenzia delle entrate quello che vuole ma viene bloccato se va ad accedere a siti come facebook o altri che magari l'amministratore ha inserito in questa black list quindi si può effettuare appunto un filtro web di quello che vogliamo dove vogliamo navigare naturalmente questo ho fatto l'esempio di un uso per i social ma può essere filtrato per siti porno per siti quello che vogliamo ecco è una sicurezza che ci protegge sulla navigazione mentre il monitoraggio della banda non fa altro che dire darci un allarme se vediamo che la nostra banda internet quindi il nostro trasferimento dei dati internet ha dei picchi abbiamo viene aumentata in automatico l'assorbimento quindi la navigazione ma noi effettivamente non stiamo facendo nulla quindi vuol dire che all'interno del nostro computer ci sarà sicuramente un virus o qualche software che va a eseguire un traffico di rete questo poi si ripercuote naturalmente nel nostro lavoro quotidiano nell'accesso ai programmi che utilizziamo per magari l'amministrazione per magari la ragioneria per magari tutti i programmi che lavorano client server quindi anche loro devono sfruttare la rete se abbiamo un eccesso di lavoro verso il web dei software malevoli che sono annidati nel nostro computer noi a sua volta non ne possiamo sfruttare di questa rete e quindi abbiamo delle perdite anche di tempo nel lavoro oltre che dei blocchi fisici questo software ce lo va a identificare ce li va a fare questa allarme e ci può naturalmente poi ci indica la soluzione migliore appunto sempre nell'esempio questa web protect non è altro che l'agente di protezione web si connette a un motore esterno che si aggiunga continuamente e decide la categoria reputazione di determinato sito quindi si può filtrare anche per categoria non importa filtrare singolarmente per un sito perché uno non è che conosce tutti i siti del mondo però dice dalle nostre macchine del nostro studio dalla nostra azienda non vogliamo che certi orari o sempre vengono effettuate delle navigazioni su siti porno oppure su siti social a quel punto in automatico e scegliendo appunto la categoria opportuna ci blocca questa navigazione il firewall il firewall che cos'è il firewall è un software o hardware perché può essere anche fisicamente acquistato uno scatolottino diciamo ecco che si mette fra il router ADSL quindi la linea esterna e la nostra rete infatti qui abbiamo l'esempio una rete quindi di tre o più computer nel nostro ufficio nella nostra azienda nella nostra casa e qui invece one quindi sarebbe internet il fuori tutta la rete che c'è fuori della nostra azienda ecco il firewall è quel muro che si mette nel mezzo è un cancello che opportunamente è configurato e più che altro in continuo aggiornamento deve saper scegliere deve in base alle nostre esigenze fare entrare e uscire dal nostro canale solo quello che noi desideriamo appunto non ci deve fare entrare attacchi dall'esterno perché anche se noi non siamo alla navigazione su internet basta uno dei nostri computer condividiamo quindi rendiamo pubbliche delle informazioni tipo condividiamo il disco locale C condividiamo una cartellina in modo che gli altri computer ci possano accedere all'interno della LAN il classico è un computer che condivide la cartella documenti e gli altri due computer ci vanno ad accedere per poter lavorare sui stessi documenti ecco se non vi è presente un firewall che protegge diciamo la nostra realtà locale questi documenti possono essere visti anche da delle persone esterne alla nostro studio quindi queste persone che dall'esterno possono accedere alla nostra risorsa e rubare diciamo prendere i nostri documenti e farci tutto quello che vuole naturalmente questo non è una cosa fattibile da diciamo utenti qualunque ma da delle persone formate per questo i cosiddetti hacker però non è solo questo il rischio perché c'è anche semplicemente il rischio che dei software tipo virus possono veicolati nella nostra rete annidarsi in questa risorsa condivisa e poi da lì partire e fare danni verso terzi quindi ecco comunque un firewall qualcosa che ci filtra ci protegge e ha necessità di essere in una qualsiasi rete locale la ridondanza dei dati la ridondanza dei dati cosa vuol dire vuol dire che il backup dei dati è la sicurezza di avere un punto di ritorno sicuro il salvataggio esterno al pc su periferiche o spazio cloud dei dati importanti per lo studio o per l'azienda ovvero se purtroppo tutte le cose dette fino ad ora non ci hanno salvato non ci hanno protetto non ci hanno reso sicuri o questo è un'ipotesi quindi siamo stati attaccati da un virus abbiamo una situazione critica abbiamo perso i nostri dati mettiamo caso l'unica soluzione l'unico appunto salvagente che fa la differenza è un backup che fa la differenza perché abbiamo fatto semplicemente l'esempio da un salvagente vero è una ciambella anche un po' sgonfia qual è? perché se il nostro backup che andiamo a prendere magari su un disco esterno usb o magari su una chiavina non l'abbiamo mai controllata non l'abbiamo mai verificata mettiamo a caso la prendiamo ma questa è vuota noi siamo sicuri di avere un backup invece in realtà non abbiamo nulla e quindi rimaniamo in una situazione critica in cui siamo quindi backup dati salvagente che fa la differenza deve essere bisogna non bisogna essere noi comunque chi per noi essere al corrente di cosa salva e dove salva ai dati conoscere la periodicità del salvataggio la sua ultima esecuzione verificare che non si verifichino errori nel trasferimento dei file e che il backup e i dati sia valido noi come sempre programma di backup nel nostro pacchetto software che consigliamo brm agent abbiamo questa soluzione un backup che ora vi farò anche vedere nell'approfondimento andiamo a vedere proprio fisicamente come è fatto è un software che in automatico noi impostiamo quando vogliamo salvare i dati quindi con che periodicità e diciamo che cosa vogliamo salvare cosa che deve essere a noi necessario è che la macchina in quel determinato orario sia accesa e internet naturalmente funzionante perché questo software non fa altro che andare andare a prendere i nostri dati selezionati e farsi una copia in uno spazio criptato uno spazio protetto al di fuori della nostra rete al di fuori della nostra azienda infatti questo è un software per la gestione automatica della copia dei dati selezionati in uno spazio criptato in cloud ovvero presso una server farm remota questa backup si mantiene 28 storicizzazioni 28 cronologie del salvataggio con la possibilità di ripristinare di recuperare un singolo file singola immagine un singolo documento o l'intera directory un'intera cartellina gialla salvata sullo stesso pc o su altri pc quindi qui semplicemente vediamo ci fa visualmente anche vedere un calendario con tutti i giorni e quando ha avuto successo quindi è andato tutto bene o quando ci sono stati degli errori andiamo infatti a vedere un attimo nel dettaglio questo software ecco qua una nostra macchina una macchina dove abbiamo installato questo backup manager questo è il software di backup che in automatico una volta installato esegue le operazioni come potete vedere come si vedeva prima nell'immagine la prima cosa chiara e visivamente facile da riconoscere è capire se il backup effettivamente è andato a buon fine oppure no infatti uno specchietto che possiamo consultare in ogni momento ci fa vedere sul nostro computer tutti i giorni che il backup è andato a buon fine ha avuto successo ci farebbe vedere in questo caso per fortuna non c'è se non avrebbe avuto successo quindi proprio rosso oppure semplicemente se non c'è il backup perché magari come in questo caso oggi non è ancora stata fatta perché come andiamo a vedere ora dopo l'orario è alle 8 di sera o come in alcuni giorni perché la domenica non è stato pianificato qua in alto infatti ci fa vedere l'ultimo backup effettuato in questo caso è stato effettuato alle 20 quindi alle 8 del pomeriggio di 17 10 2016 ora qui è americana messa in modo diverso quindi nel formato 17 ottobre 2016 dice lo spazio che ha salvato i file che sono stati salvati e il totale spazio che noi andiamo a occupare col backup backup che noi inizialmente insieme a cliente abbiamo selezionato quindi abbiamo scelto delle file o cartelle quindi semplicemente con un click possiamo vedere quale file o cartelle vengono salvati ci fa vedere cos'è che viene salvato dove si trova ci fa vedere naturalmente lo spazio che va a occupare e manualmente se noi vogliamo noi stessi aggiungere una nuova cartella aggiungere un nuovo dato da salvare semplicemente basta selezionare la nostra cartellina che vogliamo con un click mettere il baffettino dire salva e lui nella prossima backup che va a fare o anche immediatamente se clicchiamo sul pulsante run backup quindi avvialo adesso ci va a eseguire da ora in poi anche le cose nuove che abbiamo selezionato di salvare restore ci fa ripristinare io ho fatto l'esempio che siamo stati infettati da un virus per questo dobbiamo ripristinare dei file ma gli esempi possono essere molteplici semplicemente lavorando il mio collega il mio dipendente ha cancellato un file importante un preventivo o quello che magari a noi ci interessava l'ha cancellato dal cestino e non è più recuperabile ecco questa è magari una situazione che può succedere anche con più con più può essere molto più facile che capiti ecco e questa qui è una soluzione che si può risolvere semplicemente andando su questo software selezionando quale giorno ripristinare perché come vi ho detto abbiamo 28 salvataggi al nostro interno e questi qui non vanno a occupare uno spazio del nostro computer non vanno a occupare un nostro disco locale non vanno a occupare una periferica usb collegata che deve essere collegata questi sono dei salvataggi che vanno a occupare uno spazio internet quindi al di fuori del nostro studio sul nostro service sul nostro service del nostro fornitore opportunamente naturalmente criptato che nessuno può accedere solamente voi stessi e io posso dire il file che è stato cancellato può capitare no? non ce ne siamo accorti oggi è stato cancellato ieri ah quindi io non posso prendere il backup di ieri sera alle 8 perché se è stato cancellato ieri ieri sera alle 8 quel file non c'era già più quindi io semplicemente grazie a questo strumento posso andare per dire al giorno ancora prima ora ieri però appunto era lunedì quindi se è ritorno domenica non lo fa vado a sabato e dico ok lo ripristiniamo a sabato e quindi io sabato ci rieverò il mio file che il mio collega per sbaglio ha cancellato io lo vado a cercare dov'è questo file dico era questo ho cancellato questo file per sbaglio ok me lo ripristini me lo ridai ok lui ti chiede dove lo vuoi mettere io dico lo voglio che venga rimesso sul mio computer c oppure voglio che rimanga rimesso nello stesso posto di prima oppure voglio che venga messo sul mio desktop ok dando il tasto restore noi come avete potuto vedere ho fatto velocemente quindi in un quarto d'ora neppure riusciamo a ripristinare un file un singolo file che magari per noi si cambia un'ora di lavoro perché era un preventivo che abbiamo dovuto fare molto importante ecco comunque per farvi capire con facilità che l'utente finale quindi direttamente voi senza dover chiamare l'assistenza potete fare per ripristinare dei file cancellati oppure danneggiati l'ultimo esempio poi ecco non mi voglio dilungare troppo però mettiamo caso che le nostre macchine i nostri server e non ci sono più o un incendio o una rapina o quello che volete facciamo sempre gli scongiuri però non abbiamo più i nostri computer dice vabbè non abbiamo neppure questo software ok ma non c'è problemi perché da qualunque sia di altro computer oppure noi per voi ci potete chiamare possiamo andare sul sito di questo di questa protezione di questo online backup possiamo selezionare con la dovuta password il vostro backup e noi ripristinare quindi su altre macchine i dati che voi avete perso quindi ecco vi fa capire che anche in mancanza fisicamente delle vostre macchine una volta che questi backup hanno ci sono creati possono essere ripristinati dove vogliamo quindi abbiamo la sicurezza di avere i nostri dati in un posto in una cassaforte sicura per 28 giorni che poi si rinnovano di volta in volta naturalmente nelle preferenze possiamo andare a dire semplicemente quando vogliamo che venga effettuato il backup naturalmente come vi ho detto l'unica cosa è che la macchina deve essere accesa quindi a computer acceso server acceso e possiamo dire guarda il backup farlo in automatico tutti i giorni alle 8 di pomeriggio quindi alle 20 di sera oppure farlo ad un altro orario che ci piace quali giorni lo vuoi fare tutti i giorni della settimana tranne la domenica oppure solo un giorno questo lo andiamo semplicemente a selezionare noi insieme a voi nel momento dell'installazione lo potete variare anche voi manualmente salvando poi l'impostazione d'altro canto anche noi che vi seguiamo come assistenza con questo software abbiamo a tempo stesso un report quindi possiamo vedere come si sta effettuando i vostri backup infatti vedremo l'azienda in questo caso siamo Gianni Mila se no potrebbe essere l'azienda vostra il vostro computer e vedremo se il backup con questo report semplice è andato a buon fine quindi anche noi vi possiamo chiamare e dire guarda cliente hai tuo backup che da due settimane che non funziona oppure non è stato salvato quindi anche noi che curiamo per questo software possiamo ricevere dei messaggi di alarm se vediamo che un giorno non è stato effettuato che magari ecco un giorno può essere anche normale perché per qualche motivo il computer era spento ma se vediamo che nel giro di una settimana questi flag verdi sono sempre rossi perché non hanno funzionato perché non è stato effettuato il backup a questo punto sicuramente vi telefoniamo e vi diciamo guarda attenzione perché il tuo backup non si sta non sta funzionando questo appunto è il cruscotto che noi installando questo software di backup vediamo quotidianamente andiamo avanti ritorniamo dove eravamo arrivati allora quindi abbiamo parlato di backup adesso vogliamo fare un attimo un approfondimento su un virus in particolare un virus che ultimamente ma già da un po' sta girando sui vari sistemi informatici e si propaga per email il disegnettino è molto che fa capire bene il fatto fa vedere proprio che questo virus questo programma sequestra quindi blocca il vostro computer lo rende inefficace perché va a criptare tutti i vostri dati una nuova minaccia sta intaccando infatti la sicurezza dei pc e dei dispositivi mobili di mezzo pianeta e come spesso accade la diffusione avviene via email attraverso un virus di tipo Ramsware nella variante CryptoLocker o CTB Locker il virus colpisce solo sistema operativo Windows come funziona nella casella di posta elettronica del malcapitato giunge una missiva elettronica di un corriere o di un ente o di varie associazioni che magari aziende che il malcapitato reputa corretta che promette un rimborso o comunque un allegato o che fa vedere una fattura o comunque un file da aprire finché il testo delle mail è giunto in inglese o in italiano poco corretto era facile anche individuare la truffa ed evitare l'apertura dell'allegato adesso però le mail giungono agli utenti italiani in corretto stile grammaticale gli viene dunque complicato distinguere la missiva di phishing da una reale l'utente ingenuamente apre l'allegato in quell'esatto momento inizia l'infezione può capitare e è capitato molto spesso anche purtroppo a delle persone che ci hanno chiamato ormai a fatto compiuto che magari prese in un momento di distrazione la cosa più comune è mentre ero al telefono stavo guardando le mail e con le mail stavo scorrendo veloce ho visto l'allegato l'ho aperto quindi fa già capire che tornando al primo punto che abbiamo visto ovvero di fare attenzione a leggere sempre tutto il momento dove siamo più distratti dove abbiamo più distrazione è il momento sicuramente che fa cadere la nostra attenzione e ci fa essere colpiti da questi malintenzionati il virus prende possesso dei file presenti sul pc dell'utente colpito soprattutto dei file di word excel pdf immagini e nei cript contenuto l'utente non si accoglie subito del misfatto ma solo dopo qualche tempo quando tenta di aprire i file che sono stati criptografati con una chiave sconosciuta di solito ecco ho fatto un esempio non è che sono solamente queste però queste sono quelle che hanno girato di più e stanno girando ovvero le persone i malcapitati ricevono per email queste 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 mail qua quindi come potete vedere con loghi copiati quindi da aziende reali quindi vediamo Enel Telecom SDA le quali ti dicano di comunque riportano dei dati che se magari andiamo a leggere un dettaglio c'è delle incongruenze magari con la nostra azienda con la nostra società e ci dicano comunque di andare a cliccare qui per scaricare quindi eseguire andare a fare un click su un link o andare a aprire un allegato presente esempio fattura ordine scarica etiquette di spedizione clicca qui ecco allora partiamo dal ragionamento oltre naturalmente a sapere riconoscere se l'italiano è corretto eccetera partiamo dal ragionamento difficilmente queste aziende inviano dei link alla propria mail con la fattura quasi tutte queste aziende hanno un sito dedicato dove noi con un utente password andiamo personalmente a vedere i nostri rendiconti a vedere i nostri report dei nostri consumi a vedere le nostre fatture e a scaricarle se vogliamo dal sito quindi difficilmente quasi mai ci arrivano per email le fatture quindi già questo dovrebbe essere un campanello di allarme nel dubbio sempre nel dubbio mai andare avanti mai cliccare nel dubbio cancelliamo le mail chiamiamo il servizio informazioni chiamiamo l'assistenza software chiamiamo l'azienda in questione per chiedere informazioni mai eseguire il file perché come vi ho detto quando andiamo a fare cliccare su quel link cliccare su quello allegato se purtroppo il nostro software antivirus non abbiamo magari dei software aggiornati non abbiamo una protezione completa sulla nostra macchina questo col clic su queste email la prima cosa che succede successivamente aver cliccato sul file o sul link presente nelle mail il virus senza che voi ne rendete conto si collega a un sito e si scarica una chiave con la quale crepta tutti i file presenti sul disco rigido quindi sul vostro computer sulle periferiche dati collegati tipo pen driver usb o hard disk usb solitamente utilizzati per il backup locale unità di rete sul server o altri pc identificate all'interno delle risorse del computer ovvero cosa fa questo programma una volta che noi si è cliccato appunto prende da un sito esterno una chiave con questa va a criptare quindi a rendere non più apribili eseguibili tutti i file presenti sul nostro computer di word excel powerpoint pdf immagini ma non solo quelli presenti nel nostro computer abbiamo parlato prima di backup se uno purtroppo non ha un backup esterno ma solo un backup locale del computer mentre caso io ho un backup su una redisca usb che non tengo staccato al computer e attacco alla mia esigenza ma lo tengo sempre attaccato quindi è sempre collegato al computer da quelle famose porte usb che dicevamo all'inizio ecco tramite questa porta usb c'è un passaggio dei dati che questo virus vede queste periferiche e ci si va subito a infettare quindi eseguiamo il danno e anche la beffa perché veniamo danneggiati su tutti i dati presenti nel computer e anche il backup dei dati che abbiamo ahimè sempre collegato alla macchina viene anche quello danneggiato quindi perdiamo anche la risorsa che ci poteva salvare per questo è importante avere un backup al di fuori del nostro computer scollegato dal nostro computer e in più se abbiamo vari computer collegati insieme quindi una rete e fra di loro si riescono a vedere io vedo il C dell'altro computer io vedo la cartella documenti dell'altro computer questo virus sfrutta questa risorsa sfrutta questo canale per propagarsi anche nell'altro computer e andare a criptare tutti quei file i file risulteranno quindi illegibili e non più recuperabili il virus a questo punto termina il suo lavoro con un riscatto con la richiesta di un riscatto sotto forma di una somma di bitcoin una moneta di scambio utilizzata in internet e facilmente anche difficilmente rintracciabile pagare tali somma è sconsigliato poiché non ci sono garanzie sul ricopro dati sicuro e finita appunto questa infezione ecco che compare questi messaggi o simili a questi dove ti dice guarda i tuoi documenti foto, dati e altri file importanti sono stati criptati con la criptografia forte e chiave univoca generati per questo computer chiave private di decodifica è memorizzata su un server segreto e nessuno può decifrare i file fino a quando si paga per ottenere una chiave privata hai solo 96 ore quindi parte un time out fino a a che non ti tolgano questa possibilità ecco sicuramente come vi ripeto pagare non è la soluzione anche perché non è detto che poi pagato questa somma di denaro di solito si equivale a sui 500 euro non non porta a nulla non non vi dà la sicurezza di riavere i vostri file e andiamo a alimentare un giro di malavita che si fa sempre più strada quindi la soluzione sicuramente è una avere una protezione come dicevamo prima avere uno scudo che ci protegge da tutti questi fattori da tutti questi rischi noi in questo caso vi proponiamo una soluzione buffetti agent brm buffetti remote management che racchiude un solo software e vari programmi questi programmi possono essere attivati tutti o solamente alcuni la domanda più comune è io ho già un antivirus nel momento di caso anche lo stesso ad esempio 1932 o altri antivirus però mi interesserebbe questa soluzione perché mi interesserebbe avere comunque un backup dati sicuro esterno al mio computer mi servirebbe comunque una web protect quindi una protezione per la navigazione dei siti quindi per una navigazione sicura mi interesserebbe avere una gestione automatica degli aggiornamenti di windows quindi un programma che mi consiglia e mi fa scegliere quali aggiornamenti fare avrei bisogno di un controllo dell'hardware del computer quindi noi si può attivare solamente qualche pacchetto che vogliamo di questo sistema o anche tutti direttamente sulla vostra macchina o più di una macchina naturalmente rimaniamo a disposizione per l'analisi e la sicurezza della vostra della vostra azienda però vi voglio far vedere nel dettaglio anche come come funziona questo come è fatto appunto questo buffetto agent torniamo appunto sulla nostra macchina innanzitutto questo è il servizio antivirus come potete vedere qua giù in basso c'è uno scudino questo scudino ci si va a cliccare si apre un menu dove si fa vedere come un normale antivirus e le varie situazioni innanzitutto il baffettino verde quindi ci fa identificare che è tutto regolare che è attivo se ci sono dei messaggi ci ne va a a dire no? c'è l'event quindi ci fa vedere che cosa è successo quindi un determinato giorno un determinata ora che cosa ha fatto si è aggiornato ha fatto la scansione security semplicemente possiamo andare a dire con dei tasti molto semplici se effettuare un controllo veloce del sistema qui di fare un controllo completo del nostro computer oppure custom quindi andare a selezionare manualmente con che aggressività quindi con che magari tra parenti diciamo potenza no? con che varie sicurezza voglio andare a effettuare questa scansione possiamo scegliere che cosa vogliamo controllare quindi mettiamo caso viene il nostro utente dipendente che vuole stampare dalla sua chiavina usb degli allegati io prima vado a fare un controllo next della sua chiavina quindi vado a vedere che nella sua chiavina non ci siano infezioni a questo punto quando la macchina mi ha dato comunicato il software che il sistema è sicuro io procedo poi a collegare a salvare i suoi dati sul mio computer stampare o a fare quello che vogliamo naturalmente poi viene dato un risultato un report di tutti i file controllati e nel caso ci sono presenti un'infezione questa è la parte semplicemente dell'antivirus del pacchetto BRM poi andiamo a vedere gli altri software abbiamo già visto il web manager il backup quello che abbiamo visto prima poi abbiamo praticamente questa riepilogo noi che una volta installato il software sulla vostra macchina noi come assistenza software di questo programma riceviamo per il vostro computer una serie di reportistica dei controlli che vengono effettuati quindi possiamo vedere se c'è problemi di vulnerabilità quindi se c'è bisogno di fare degli aggiornamenti vediamo se il vostro spazio disco si sta terminando ecco che subito un grafico ci fa vedere lo spazio del vostro disco pieno e quello libero utilizzato e libero quindi possiamo rendersi conto noi per voi ma anche voi perché possiamo dare l'accesso anche a voi a questo sito internet dove far vedere tutte le reportistiche delle macchine o una macchina su quale installate questo software possiamo vedere appunto se qualcuno non è riuscito a collegarsi avete presente quando accendiamo il computer che c'è un utente e una password ecco se qualcuno per tante volte sbaglia la password viene identificato qua in questo caso dice il nome che è la persona che ha sbagliato la password e quante volte ha sbagliato la password perché questo è importante questo è importante perché è una protezione perché in caso di un attacco esterno naturalmente chi si attacca dall'esterno non conosce la password quindi farà con dei software appositi diversi tentativi di accesso al vostro computer al vostro server quindi quando vedremo in questo caso è un errore umano no? una volta ma se vediamo 20 10 30 volte accessi negati ma tentati da qualche utente identifica che sicuramente qualcuno sta tentando di entrare sul vostro sistema abbiamo poi un controllo delle prestazioni con il monitoraggio attivo delle prestazioni del vostro computer vediamo infatti dei indicatori della vostra microprocessore ci fa vedere quanto sta lavorando ci fa vedere quindi il carico medio che sta effettuando in questo caso questa macchina è una macchina multiprocessore essendo un server che ha appunto 4 processori quad core quindi ci fa vedere la potenza in cui stanno lavorando anche questo comunque è un campanello di allarme perché in scrittura normali come potete vedere la potenza è media in caso di potenti dei programmi che stanno lavorando e non siamo noi questo questo ago va a salire magari anche questo è un campanello che dice ma forse c'è qualcosa che sta lavorando e non siamo noi appunto ci fa vedere gli eventi critici se ci sono degli eventi degli errori che si sono verificati a livello di windows abbiamo ecco tutta una serie di reportistica che possiamo andare a identificare andare a vedere sulle macchine su cui abbiamo installato in questo caso appunto come vi dicevo è sul server ma abbiamo anche workstation quindi semplici computer dove è installato il nostro software e anche qui abbiamo una serie di reportistiche simili appunto da quelle server dove ci va a identificare come prima lo spazio il controllo degli accessi o controllo anche di integrità del disco se il disco dati inizia a avere dei danni degli errori fisici proprio è un componente quindi se si inizia a deteriorare o a danneggiare ecco che ci vengono dati degli alarm in modo che noi come assistenza Gianni Mila vi possiamo chiamare e dire guarda si sta rompendo la macchina si sta effettuando un danno al tuo sistema forse è il caso di intervenire prima di essere troppo tardi un'altra cosa che vi volevo far vedere è appunto è questa di cui si parlava prima web protect web protect ovvero quella protezione web che ci fa anche da filtro per i siti che noi non vogliamo prima vi avevo fatto vedere appunto l'esempio nelle slide ma questo qui è praticamente quello che poi andiamo a fare ovvero possiamo vedere per determinata macchina su quale siti questa ha navigato quindi abbiamo subito un rendiconto di siti su quale è andato come per categoria come vi dicevo quindi è stato navigato su un sito business un sito di computer due richiesti totali sono state bloccate nessuna sito web eccolo qua su quale siti realmente sono stati effettuati gli accessi poi come vi dicevo può essere da noi gestito o a vostra richiesta ve lo facciamo direttamente noi andare a modificare diciamo quello che un computer dove può andare a navigare oltre a proteggersi da siti dannosi siti dove sono presenti magari dei virus il programma ci permette di bloccare siti di spam quindi di posta elettronica dove dove si può avere attacchi tramite la posta elettronica siti dove c'è del phishing quindi o frodi no? quei siti dove ci chiedono dei nostri mutanti e password per estorgere per copiarcele insomma questo è il famoso filtro per categoria possiamo dire che questi computer invece andato il programma da noi richiesto non vadano a vedere siti con violenza siti con nudità siti illegali siti ecco abbiamo gioco d'azzardo noi bloccando o permettendo o schedulando a degli orari da noi a piacimento possiamo dire se questi computer dove è installato il software possono andare a navigare questi determinati siti appartenenti a queste categorie white list invece sono delle liste sicure quindi mettiamo caso questo qui che è un fornitore di mobili e viene bloccato perché non è identificato come nessun sito e quindi per precauzione il nostro controllo web cosa fa lo va a bloccare però per noi e me il nostro fornitore facciamo aggiungi alla white list e quindi ci riesce a far navigare mentre black list sono quei siti che noi manualmente vogliamo proprio bloccare e rendere non fruibili da nessun computer pianificazione potremmo permettere ai nostri dipendenti alle nostre persone che lavorano su questo computer di bloccare o consentire la navigazione internet in determinati orari e in determinati giorni ecco questo era per vedere anche nel dettaglio questa utile e diciamo completa sicurezza per la navigazione internet e più che altro per la rete appunto one che si interfaccia poi con i nostri con i nostri sistemi se avete delle domande in merito a quello che abbiamo visto me le potete fare tramite la chat e tramite la chat del programma potete fare appunto delle domande a cui vi posso rispondere poi naturalmente per una delle domande più chiare e magari più personali mi potete chiamare telefonicamente o per email contattare così possiamo analizzare anche la vostra situazione e trovare sicuramente una soluzione ad hoc per ognuno di voi se non ci sono domande diciamo questo approfondimento effettuato questa mattina si conclude qua naturalmente siamo disponibili per altri approfondimenti anche su temi della sicurezza vostra richiesta mandateci pure le richieste che magari si può il numero nelle persone sufficiente possiamo effettuare comunque dei decorsi se non ci sono domande vi saluto un po' Grazie a tutti.